Buongiorno e ben ritrovati a da voi la linea all'appuntamento quotidiano per approfondire quelli che sono i temi del giorno e in primo piano andiamo a Trieste dove si sta svolgendo nella sede della Camera di Commercio un importante evento legato alla valorizzazione del turismo e alla promozione turistica della Venezia Giulia. Ci colleghiamo subito con la nostra collega Isabella Gregoratto che sta seguendo per noi il convegno. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo a Trieste nella sede della Camera di Commercio dove si sta concludendo il convegno Imprese Turismo, le Camere di Commercio per la promozione del turismo, le strategie e gli strumenti del nuovo sistema camerale. Con noi il padrone di casa, il presidente della Camera di Commercio di Trieste Antonio Paoletti. Ecco partiamo proprio da questo presupposto che le Camere di Commercio adesso hanno anche questo ruolo e questo è uno degli incontri che fanno parte delle iniziative legate a questo ruolo che vi è stato riconosciuto. Intanto buongiorno ai telespettatori, presidente della Camera di Commercio di Trieste ma ormai della Venezia Giulia per cui anche di Gorizia. Le Camere di Commercio hanno sempre fatto promozione turistica, territoriale, per le imprese e per i territori in più settori economici. Da un po' d'anni il Ministero ci ha riconosciuto questo ruolo a livello nazionale e quindi turismo e cultura lo gestiamo noi attraverso i fondi pericolativi che ci vengono assegnati circa un 20%. Progetti regionali e poi declinati nei territori per cui il nostro scopo è quello di promuovere in un coordinamento nazionale le specificità territoriali. Parliamo in maniera specifica dell'incontro di oggi che vede a confronto operatori del settore ma anche si parla di innovazione, di quanto sia importante anche l'innovazione digitale nell'insieme e quanto sia importante fare rete. Allora sappiamo che il turismo è una macchina da guerra che può creare e crea ricchezza in tutti i comparti economici del paese. Ora il turismo per forza di cose è diventato digitale. Noi con un altro fondo stiamo spingendo i PID che sono appunto imprese digitali proprio dalle Camere di Commercio dove andiamo a digitalizzare le imprese, a prepararle e a insegnarle anche attraverso i tutor che portiamo nelle aziende. Per cui lo scopo nostro è quello di mettere a rete il più possibile le nostre eccellenze e fare in modo che l'utente finale trovi semplice capirle, vederle eccetera. È una cosa mobile dove tutte le cose che si fanno da settimana in settimana uno entra in rete con un'app e avrà la possibilità di toccare con mano il tutto. Crea occupazione, crea sviluppo. Insomma direi che il nostro ruolo è quello di sviluppare i territori e penso che stiamo facendo molto bene. Lei oggi nell'occasione ha anche presentato alcuni dati, quelle che sono le realtà territoriali e regionali. I dati di questa regione sono dati direi importanti. La ingimiranza dei vari presidenti che si sono via via succeduti alla gestione del comparto turistico di questa regione hanno investito non pochi denari. Attraverso Promotorismo FWG tutti noi ci coordiniamo e di conseguenza i risultati stanno arrivando. I dati sono in linea con quelli italiani. Trieste sta giocando un ruolo, per esempio Lignano come spiaggia. Se facciamo un paragone tra Liguria e Florenzia Giulia vediamo che Lignano supera Rapallo in termini di presenze per quanto riguarda Banneari come spiagge e però Genova supera Trieste. Sapete perché Genova supera Trieste? Perché è un grande attrattore che sarebbe l'acquario, cosa che Trieste stiamo aspettando da troppi anni e qui mi fermo. Quindi quali altri suggerimenti Presidente per dare impulso al di là qui a Trieste e dell'acquario? Lavorare molto bene sull'accoglienza turistica, creare la cultura dell'accoglienza turistica e la cultura vuol dire che dal taxista, cioè il cliente che arriva in questa regione da Come, il primo impatto ha quando in aeroporto o in stazione ferroviaria o nelle autostrade. In questo momento noi siamo ancora un po' in difficoltà come autostrada, però ci stiamo arrivando. Ecco, arrivare già a dare un senso che arrivi in una regione speciale, che arrivi in una regione organizzata già da lì. E poi tutto quello che ne consegue, la cultura e la qualità turistica sono importanti dai taxista, al bar, al ristorante, all'albergo e su questo c'è ancora da lavorare. Bene, ringrazio il Presidente Paoletti e restituisco la linea allo studio. Grazie, la nostra Isabella Gregoratto. Al via oggi i mondiali di Deltaplano, in programma sui cieli del Friuli fino al 27 luglio, con quartier generale a Tolmezzo. A darsi battaglia saranno più di 130 piloti, che ieri hanno fatto le prove, lanciandosi dal Monte Valini, San Meduno e sempre nel piccolo comune pordenonese. È stata allestita per l'occasione una mostra sulle macchine volanti di Leonardo. Occhi puntati sui cieli del Friuli per la 22esima edizione dei campionati del mondo di Deltaplano, in programma fino al 27 luglio, in diverse aree volo e atterraggio, suddivise tra montagna e pedemontana pordenonese, Carnia, con il quartier generale di Tolmezzo, ma anche Austria e Slovenia. In gara 130 piloti, in rappresentanza di 29 nazioni. Oltre all'Italia, chiamata a difendere il quinto titolo consecutivo a squadre vinto a Brasilia, puntano alla vittoria Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Austria e Australia. Occhio anche alla Slovenia, che invece è solita sconfinare nelle sessioni di allenamento e potrà rivelarsi una delle sorprese della manifestazione. Tra i piloti presenti, il Giappone schiera l'unica donna al via, si tratta di Yoko Sano. Dopo la cerimonia di apertura di sabato, domenica 14 luglio, i piloti hanno fatto le prove generali decollando dal Monte Valini, San Meduno, regalando al pubblico lo spettacolo di tante ali colorate che hanno deliziato gli occhi, soprattutto dei più appassionati ed anche dei più piccoli presenti all'atterraggio di Bordano. Da lunedì 15 a sabato 27 luglio si farà sul serio. Finalmente siamo qui all'apertura di questi ventiduesimi campionati del mondo di alta plano. Il lavoro è stato faticoso ed è stato lunghissimo. Siamo partiti nel 2015 a pensare a questo progetto dei mondiali e finalmente dopo anni di lavoro intenso e continuo siamo arrivati e quindi siamo soddisfatti di essere qui e di far partire questa manifestazione. Una manifestazione molto importante per la regione perché devo dire che è stata la prima che ha creduto nel nostro grande progetto, ha creduto in questo mondiale e ci ha sostenuto fin dall'inizio. È una regione che è fantastica per questa disciplina del volo libero. Abbiamo delle zone del volo bellissime, stupende, poco distanti tra di loro e quindi questo campionato del mondo vuole soprattutto far conoscere questi territori e fare in modo che la gente poi ritorni nei nostri territori durante tutto l'anno. A corredo dei mondiali di deltaplano a Meduno è stata anche allestita una mostra sulle macchine volanti di Leonardo a 500 anni dalla sua scomparsa. Inaugurata il 7 luglio la mostra sarà visibile a Palazzo Colossis fino al 4 agosto. La mostra è fatta a corollario proprio del campionato mondiale di deltaplano. Noi qua siamo fortunatissimi perché abbiamo una zona meravigliosa che è il Monte Valinis dove ci sono delle correnti particolari che permettono ai deltaplani di volare in maniera ottimale. In Valinis c'è stato un grande sviluppo negli ultimi anni, dovrà essercene molto di più per valorizzare questa zona e faremo di tutto per poterlo fare nel rispetto dell'ambiente e del territorio. Un'esposizione sostenuta anche da partner privati come Friulovest Banca. Abbiamo la fortuna qui a Meduno di avere una montagna che si presta a questo tipo di sport una cosa importante anche dal punto di vista economico perché richiama da tutto il mondo delle persone che vogliono volare e quindi questa è una fortuna che abbiamo come territorio e l'abbiamo voluto legare in questa giornata a questa fantastica mostra con le macchine di Leonardo. Oltre a ricordare Ugo Zanier che negli anni 30 ha voluto fare il primo decollo da Valinis e questa è una cosa per noi importante, è una piccola comunità che deve sfruttare anche questi momenti che possono diventare anche dei valori economici nel futuro per richiamare appunto questo turismo. Non solo sport insomma ma anche una vetrina culturale internazionale per Meduno. Un paese anche se piccolo merita di portarsi un pezzo di genio a casa anche perché poi Leonardo con le sue macchine è riuscito ad appassionare anche i fabbri del posto, anche gli artigiani del posto che hanno visitato stamattina la mostra e si sono anche emozionati per cui penso che insomma siamo riusciti a fare una bella cosa, una bella mostra che piacerà. E' stato assegnato all'attore Giuseppe Battiston il premio Casanova 2019. Musica Dialoghi è il riconoscimento a uno dei più grandi protagonisti del cinema italiano contemporaneo, l'attore ordinese Giuseppe Battiston è stata questa la diciassettesima serata del premio Casanova al Castello di Spessa aperta da un confronto su un tema molto sentito, la sostenibilità vero filo rosso delle premio 2019 come evidenziato nel panel introduttivo dialogo che ha visto protagonisti il premio Nobel Filippo Giorgi, climatologo di fama mondiale insieme al docente storico dell'enologia Tilio Scienza, al direttore di Top Taste, Mariella Trimboli e a Daniele Cernilli, una delle personalità più influenti in ambito enologico internazionale. All'apice della serata la premiazione di Battiston, definito formidabile ambasciatore del Friuli Venezia Giulia attraverso scelte e performance attoriali intense e appassionate con una cifra stilistica, personale, inconfondibile e seducente. Battiston ha nascosto l'emozione per questo riconoscimento arrivato dalla sua terra e concepito per promuovere i valori di libertà, tolleranza e apertura verso l'altro, sollecitando dalle domande del critico cinematografico Giampaolo Polesini, ha raccontato anche dei suoi esordi sul palcoscenico a Udine auspicando l'introduzione dell'educazione teatrale nelle scuole, non certo per formare generazioni di attori, ha detto, ma proprio perché il teatro aiuta a conoscersi meglio. Il premio Casanova ricorda e celebra il passaggio al castello di Spessa, dello stesso Casanova, che vi soggiornò per un paio di mesi nell'autunno del 1773, consegnando memoria di quell'esperienza nell'Istoire de Mavie. Per il secondo anno consecutivo la nostra regione ha ospitato la UCA Cheer Experience Italy 2019, un camp intensivo di cheerleading organizzato a Monfalcone dall'associazione Trust Sport, in collaborazione con l'associazione ricreativa Fincantieri e con il supporto della Universal Cheese Leader Association. Pur essendo uno sport con oltre 120 anni di storia, il cheerleading in Italia si sta diffondendo solamente da alcuni anni ed è praticato su tutto il territorio nazionale da circa 2.500 atletti. E poi andiamo a darvi un'altra notizia di sport, ancora un podio mondiale per il gruppo diamante del patinaggio Fiumicello. Ieri sera a Barcellona ai mondiali di patinaggio artistico nella categoria Grandi Gruppi, infatti ragazzi e le ragazze del diamante hanno conquistato la medaglia di bronzo con il programma Con gli occhi di un bambino. Festa anche a Fiumicello con tutto il paese che ha potuto seguire la gara in diretta streaming su Maxi Schermo durante la sessantesima mostra regionale delle pesche. La gradese Irene Bellan della Osonia di Grado, la nuova campionessa europea di K1, 200 metri juniors di canottaggio, un successo conquistato ieri sul campo di regata Cecco di Racice, l'atleta allenata da Andrea Tessarin dopo il bronzo mondiale nel 2018 e l'oro europeo 2019 si pone come una delle pretendenti al titolo mondiale che si assegnerà a Pitesti in Romania dall'1 al 4 agosto. Ci separiamo, qualche minuto per la pubblicità, poi collegamenti in diretta dal territorio e altri approfondimenti. A tra poco. Di nuovo insieme in diretta da voi la linea. Tra poco ci collegheremo con la nostra Francesca Spangoro perché la giunta comunale di Udine preseduta dalla sindaco Fontanini nella seduta di martedì ha dato il via libera alla convenzione che disciplina i rapporti con l'udinese calcio per l'utilizzo degli spazi della Dacia Arena da adibili a servizi di pubblico interesse. Le dettagli della convenzione sono stati svelati nel corso di una conferenza stampa dallo Stadio Friuli. Allora ci colleghiamo con Francesca per gli ultimi aggiornamenti. A te la linea Francesca. Eccoci qua, buongiorno Alexis, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, sono stati resi noti tanti dettagli. Stadio 2.0 nato nel 2017, anche se ha svelato il direttore amministrativo dell'udinese Rigotto, tutto nacque da un'intuizione di Pozzo, di Paron Pozzo già nel 2009, quindi quattro anni prima della legge sugli stadi del 2013, dalla quale poi prende il via anche tutto l'iter che ha portato alla convenzione presentata oggi. Convenzione che appunto è stata approvata dalla giunta, che verrà firmata. Ci sarà poi un'ulteriore conferenza che dovrà semplicemente prendere atto di quanto deciso, di quanto accordato tra comune e società e da lì poi appunto si potrà partire con i lavori. Allora partiamo da questo dato perché proprio durante la conferenza stampa il dottor Rigotto, il direttore amministrativo dell'udinese calcio, ha fatto sapere che se tutto appunto, se quest'ultima parte burocratica si completerà senza problemi, ovviamente complici, è considerato che siamo appunto nei mesi estivi. Già a settembre si potrà partire con i lavori per quanto riguarda la piscina, per quanto riguarda anche la parte palestra e wellness, una parte che occuperà 4.000 metri quadri e che quindi sarà assolutamente una novità aperta a tutti, ma con la per la quale saranno garantite anche delle convenzioni per le società sportive e per i cittadini di Udine. Convenzioni anche per quanto riguarda poi il centro medico, diciamo una clinica riabilitativa, un policlinico, così l'ha definito Rigotto appunto, anche lì delle convenzioni con le società e con le scuole e anche questa sarà una delle prime parti che verranno realizzate. Guardando all'intrattenimento anche una grande birreria diciamo a lato nei pressi di quello che oggi lo spazio è occupato dal Macron Store e anche questo appunto sarà nei primi tre interventi quelli che presumibilmente potranno già essere pronti entro un anno, quindi questi sono i tempi che sono stati dati per un progetto che complessivamente riguarda circa 20.000 metri quadri e che porterà ad un investimento dai 20 ai 30 milioni, la cifra sarà più vicina ai 30 milioni. Non ci saranno disagi durante le partite, si lavorerà soprattutto sul livello meno uno e sul livello uno quelli che sono ancora al grezzo anche se già è stato sottolineato, ci si è portati avanti in questo periodo per quanto riguarda i lavori proprio di rifinitura di quelle che sono le scarpate che permettono poi di accedere in particolare al piano meno uno. Cosa c'è allora anche in questa convenzione? Abbiamo parlato della piscina, abbiamo parlato dello spazio wellness, dello spazio medico fisioterapico ma ci sarà anche uno spazio voluto dal comune per una scuola di musica o utilizzabile per qualcos'altro anche di simile in questo ambito e poi uno spazio per delle aree commerciali nei limiti della legge regionale, uno spazio per il magazzino dell'Udinese ma per quello che riguarda un po' tutti, guardando invece al piano zero, quindi quello appunto del match day ci sarà anche uno spazio vicino al Macron Store da dedicare alla promozione, al marketing del Friuli Venezia Giulia quindi approfittare insomma della visibilità dell'Udinese per promuovere anche quelle che sono le altre risorse della regione. Andando al piano superiore, importante, molto apprezzato in particolare dall'assessore ai grandi eventi del comune di Udine, France, uno spazio dedicato a centro congressi, qualcosa che effettivamente manca ora a Udine sulle grandi dimensioni, ci sarà anche uno spazio museale non solamente legato all'Udinese quindi alla parte sportiva e poi verrà realizzato un bar-ristorante ma anche un piccolo spazio per il co-working e quindi per giovani o piccole imprese che vorranno appunto avere uno spazio da poter utilizzare, al quale poter accedere, da dove poter lavorare all'interno dello stadio Friuli. Insomma davvero un progetto a tutto tondo, un iter che è partito nel 2017 e che oggi arriva praticamente alla conclusione di quella che è stata tutta la parte burocratica e legata appunto alla legge sugli stati che è poi stata recepita dalla regione Friuli-Venezia-Giulia e che quindi prevede un iter con una conferenza dei servizi che ha appunto valutato attentamente tutto quello che è stato accordato fra Udinese e Comune, ci sono dentro appunto Vigi del Fuoco, Questura, aziende sanitarie, insomma tanti gli aspetti che sono stati pensati e che sono stati considerati e ovviamente sono state ringraziate appunto tutte le parti che hanno, tutte le istituzioni che hanno preso parte a questo progetto. Insomma pronti Udinese e Comune a questo stadio 2.0 che auspicio di Franz e con questo chiudo dell'assessore Franz si spera possa di nuovo ospitare anche i grandi eventi musicali. Ha risposto affermativamente rigotto, certo tenendo conto anche della stagione sportiva che quest'anno riguarderà sia la Serie A che la Serie B con il Pordenone, ma insomma in estate si può fare con eventi musicali fino a circa 25.000 persone. È tutto, a voi la linea. Grazie alla nostra Francesca Spangaro, giornalmente di Coricci per questo collegamento in diretta da Udinese, ma torniamo a Triese dove nel corso della mattinata dei lavori la nostra Isabella Gregorato ha intravistato Lucio Gomiero, presidente di Promo Turismo Friuli-Venezia-Giulia. Allora sentiamo l'intervista. Quanto è importante creare questa rete? Oggi qui a Trieste si confrontano tante esperienze, quindi esperienze sul territorio, esperienze che partono anche dal web, quindi l'inserimento di questa innovazione per conoscere tutto il territorio. Credo sia un passo fondamentale. Oggi conoscere diventa l'elemento qualificante per progettare delle strategie. Si parla spesso di questi big data. In realtà i dati ci sono, una volta messi a sistema hanno bisogno di algoritmi che li interpretano e quindi c'è un punto fondamentale. Quello che rende vivi i dati sono le decisioni. Gli algoritmi sono fondamentali. La seconda cosa fondamentale per valorizzare al massimo il lavoro che oggi viene presentato è quello anche di avere gente competente in grado poi di prendere le decisioni su questi dati e su questi algoritmi. Perché è questo che fa la differenza. Quindi per una promozione a 360 gradi sul territorio di che cosa c'è bisogno? Capire di più il turista, capire di più le sue abitudini, capire di più quello che lui piace, capire ciò che gli può interessare in futuro. Quindi avere la possibilità di leggere le dinamiche con cui un turista fruisce del nostro territorio. Ciò che gli piace, ciò che non gli piace, ciò a cui aspira. Questo diventa un elemento fondamentale. Oggi il turismo ha vissuto più di interpretazioni, di intuiti. È poco strutturato. Il turismo deve diventare un'industria. Un'industria che si basa su dati, si basa su algoritmi, si basa su decisioni. Poi la fantasia, la viviacità imprenditoriale, un pizzico di genialità ci vuole sempre. Ma il turismo non deve essere più un'impresa artigiana, deve diventare un'impresa industriale. Questo vale per il Friuli Venezia e Giulia, vale anche per il sistema paese. Abbiamo diverse esperienze di chi ha fatto dei passi in avanti in questo senso, li dobbiamo anche sfruttare, leggere. E credo che oggi, poco più tardi, verranno proprio a presentare quelle che si chiamano delle buone pratiche da seguire, da imitare e magari da ulteriormente implementare. È iniziata questa mattina l'avventura del Monfalconese Enrico Luca che attraverserà l'Italia per raccogliere fondi da destinare alla casa via di Natale di Aviano. È partito stamattina dalla rocca di Monfalcone Enrico Luca per la sua avventura lungo l'Italia. Si tratta di un percorso tra vagli e monti per raccogliere fondi destinati alla casa via di Natale di Aviano a favore dei malati. Sei pronto? Sì, fisicamente, indubbiamente sì. Tanta ansia, non sono abituato a queste situazioni, però andiamo. Carichi, carichi, carichi. Quale sarà il tuo percorso? Partiamo da qui, la rocca a Monfalcone, spariamo su subito in alta montagna verso le Dolomiti, che sarà la parte più impegnativa. E poi si andrà a scendere per l'Italia, arrivare giù fino oltre Napoli. Mi sono preparato lì a Gran Canaria, dove vivo ora, e lì ci sono molte salite. Mi sono dato da fare, mi sono preparato, quindi quello che è fatto è fatto ormai, però sono fiducioso, mi mette un po' ansia il movimento in giro che si è creato, ma sono contento, lo scopo era questo. Come darti una mano, come raccogliere fondi per la via di Natale? C'è un profilo Facebook, è una pagina a nome mio, dove ci sono tutte le indicazioni, come i bollettini postali o l'Iban, i soldi vanno direttamente alla Onlus, l'ho detto e lo ridico ancora, nessun soldo viene nelle mie tasche, io sono completamente autofinanziato, completamente. Poi c'è anche una raccolta fondi molto più facile da fare su Facebook, sulla mia pagina. Un messaggio a chi ti seguirà? Seguitemi, fate conoscere questa Onlus, facciamolo tutti insieme. Ed ora l'appuntamento con il Meteo, ma subito dopo la pubblicità da non perdere, il punto di Enzo Cataruzzi, ospite in studio, il vice governatore della regione, Riccardo Riccardi. Quindi ora vi lascio gli aggiornamenti Meteo, poi il telegiornale tornerà nella nostra edizione di Flash alle 16. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Le previsioni per oggi. Cielo in genere variabile con più sole sulla costa, dove soffierà Borino e sul Tarvisiano. In giornata sui monti sarà possibile sia qualche debole pioggia locale, che qualche rovescio temporalesco, specie sulle prealpi e Incarnia. Le temperature minime in pianura sanno comprese tra 17 e 19 gradi, le massime tra 26 e 29 gradi. Sulla costa si avrà per le minime 20 e 22 gradi, le massime oscilleranno tra 26 e 29 gradi. Domani si avrà bel tempo con atmosfera ancora piuttosto secca. In giornata si avrà qualche locale a nuvolamento sui monti e zone orientali, con cielo quindi poco nuvoloso. Sulla costa Borino al mattino, poi Brezza proveniente dal mare. La tendenza per dopodomani, bel tempo con venti a regime di Brezza. Dal pomeriggio possibile qualche rovescio temporale sulle prealpi carniche e Incarnia, più probabile verso il Cadore. Le temperature minime saranno comprese tra 18 e 20 gradi, le massime tra 30 e 32 in pianura. Sulla costa si avrà minime 20-24, massime 26-29. La tendenza per giovedì, tempo più umido ed instabile, con cielo da poco nuvoloso sulla costa, variabile o nuvoloso sui monti. Possibili rovesci e temporali dal pomeriggio, specie sui monti, meno probabili sulla costa. Le temperature minime saranno 18-20 gradi, le massime 28-30. Sulla costa saranno 21-23 e massime 25-28. Desil Messriche 1-22 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.